ciao a tutti ragazzi bentornati e bentrovati in una video non è una video recensione ma pensi è un vlog di matti vape che oggi è illuminato tipo dio allora ragazzi oggi tra l'altro si aggiunge un nuovo pezzo al mio setup da registrazione oltre ai tre nuovi faretti si aggiunto un bel microfono che spero di aver settato bene e ringrazio boris video nerd per avermi aiutato nella scelta dei faretti e soprattutto con il microfono che mi ha risolto un grosso problema oggi pomeriggio detto ciò ragazzi cosa voglio andare a dire in questo video non ha un messaggio specifico perché vorrei fare più un titolo clickbait tanto per prendervi un po per il culo scherzo non mi voglio prendere per il culo però voglio giocare un pochettino a fare un vlog che voglio fare questo vlog perché si sta avvicinando il periodo della fiera dei svapore expo bassano a svapore expo bassano succederanno un sacco di cose amici miei io che bello ogni tanto mi sposto se vado avanti sono più in luce se vado indietro mi sembra di essere più in buio non me ne frega un cazzo perché c'ho la camera troppo lontana e non ci vedo ma fa lo stesso cosa volevo dire volevo dire che sono molto 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 felice e anche molto 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 entusiasta di tutto ciò perché finalmente arriva la fiera alla quale ci stiamo lavorando da più di tanti mesi ho avuto l'invito a luglio e insomma facciamo agosto settembre ottobre novembre novembre vabbè sì facciamo che sono tre quattro mesi che ci stiamo lavorando come degli sgraziati e spero di riuscire a portare un buon prodotto a livello anche di spettacolo per questa fiera la cosa che mi piace di più è vedere che il mio canale finalmente sta crescendo tipo dio no non è vero sta crescendo bene però devo dire la verità che nell'ultimo mese sono arrivate quasi un centinaio di persone che insomma fare 500 iscritti in anno e poi in un mese solo arrivano 100 persone grazie grazie perché mi iniziavano a mancare gli iscritti cioè vorrei crescere sempre di più vorrei poter portare sempre più contenuti ragazzi io io spero spero veramente che la fiera vada come come deve andare ricordo che ci saranno svariati ospiti ci sarò io ci sarà matteo scarfi ci sarà il santo me dello svapo ci sarà ignoranz svapo ci sarà miss svapo ci sarà le tv letizia bizzocca ci sarà il mio grandissimo amico willow willow official che arriva direttamente dalla liguria insomma saremo tanti e ci sarà tanta carne al fuoco perché sarà veramente una fiera tipo dio basta questo tipo dio però io non so cosa puff porterà in fiera come novità non so se faranno dei lanci non so se si lancerà robin giordano ai masso direttamente di testa non so cosa succederà ma spero di fare e di vedere un gran bello spettacolo perché sto veramente impegnando tutto me stesso per riuscire davvero casino hai finito ok sto impegnando tutto me stesso per riuscire a portare un ottimo spettacolo sia a livello di spettacolo proprio sia a livello di intrattenimento cercherò di riuscire ad avere un videomaker che ci faccia un bel after movie se non dovesse esserci il videomaker farò tutto per i c***i miei e va bene così senza parola in questo caso senza videomaker quindi detto ciò l'invito era da un po che non facevo sti gesti c'è una cosa che non diciamo da una vita e c'è una cosa che mi manca un sacco da dire no il ciccio chasing il ciccio chasing faccio del ciccio chasing ok avendo fatto del ciccio chasing col vroom che ma è buono tra l'altro avevo nostalgia del tfv8 big baby non so perché ma sto usando solo qua dentro il vroom e mi trovo da dio ogni tanto mi piace tornare ai tank si fa fatica a tornare indietro è vero però la comodità dei tank ragazzi non c'è un c***o da fare sono comodi dovrei avere il tempo materiale per rigenerare il mio wasp nano con le alien coin che mi ha dato flavia e metterlo sulla pico sulla canger in base a quella che ciò libera vai mentre fravia guarda di spoiler armi qualcosa io vi ringrazio vi saluto vi invito il 28 e 29 di ottobre alla fiera svapore expo bassano a bassano del grappa per l'appunto dove ci saremo tutti quanti power dynamite sempre in stereo vabbè con l'ultima svapata vi ringrazio vi saluto se il video vi divesse essere piaciuto vi invito a mettere mi piace vi invito invece per piacere e per cortesia a condividere mi gratto la scimmia che c'ho sulla spalla che mi sta salendo la scimmia per poi non fa given vi invito per piacere a condividere questo video così tutti quanti sappiamo che ci sarà questa fiera è il rinvito non vi rinvito vi rinnovo il ringraziamento per esservi iscritti al canale se siete nuovi e vi state appena iscrivendo vi consiglio vi ringrazio di mettere la campanella di attivare la campanella in modo che vi arrivino le mie notifiche del mio canale con l'ultima svapata vi saluto ringrazio il pasta percine che oggi mi ha prestato il puff no che oggi che oggi che oggi che oggi che oggi che oggi cosa cosa stai facendo non lo so che oggi non mi viene in mente nulla che oggi è stato più power che dynamite del solito e con l'ultima svapata ciao ultimo 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 ultimo